signori il doc ci ha sfidato ha detto ci fa il culo a tutti quindi ora vogliamo vedere i risultati eh? Longo te che dici? secondo me no, sa come dice lui? dice io tanto pago ragazzi c'è l'atleta doc ha sbaragliato tutti i pronostici e chi l'ha visto e chi l'ha visto doc prima la picco ecco come al solito come sempre come sempre